Seguiamo, saluto in campo da parte delle due squadre, in campo in questo momento abbiamo il Segrate, sta entrando il New Volley Adda, possiamo vedere questa inquadratura qua, eccole, saluto ufficiale, saluto anche da parte di tutti gli allenatori. Vedremo. E zero, 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 zero. Iniziano ad entrare le squadre, l'arbitro che chiama le squadre in campo, controllo delle formazioni. Formazione a posto. Labio trova a posizionarsi sul suo seggelone. Al servizio Vole Segrate con la giocatrice numero otto, Rossi. E iniziamo, eccolo. Partiti. Attacco leggero da parte del New Volley Adda, palletta. Eccolo lì, che invece il Segrate. subito punto, 1-0. Sempre Rossi al servizio per il Segrate. Attacco da parte. Attacco da parte un po' più forte rispetto a prima del New Volley Adda. Lungo, attacco lungo. Posto uno. E' qua. Il Segrate conclude con un secondo punto. da parte della Cassera. 2-0. Sempre Rossi per il Segrate servizio. E qui c'è. E qui c'è. E di ben mezzo metro c'è. Le ragazze della difesa si guardano. Brutta ricezione. Si guardano in attesa che la palla esca. Invece la palla è ben dentro. Bordonali per il New Volley Adda per il servizio. Bello questo attacco. Sempre della Cassera. Che non lascia scampo al New Volley. Zorloni per il Segrate. Siamo 3-1 per il Segrate. Primo set. E qua tocca la riga. Assolutamente sì. C'era. C'era, c'era. Assolutamente c'era. Contestazione da parte del Segrate. Ma c'era assolutamente. Guerrini per il New Volley Adda. Bello questo attacco da parte. Eh, infatti. Cattiva recezione da parte del New Volley Adda. Che la palla si infila fra i palli della rete. a servizio della Cassera. Ecco lei che ha fatto ben due punti di attacco. Precedenza. Palla easy. Eccola qua. intercettata male dal New Volley Adda. Vediamo. Attacco ben murato. Poteva essere un attacco un po' più performante da parte di New Volley Adda. Muro. Muro. Murone a due. La giocatrice numero quindici che ferma la palla. Elia. Bello. 5 a due. Tris Segrate. Sempre Cassera a servizio. Bello. Ben difeso da parte del Segrate. Attacco. Muro a. Muro. Money out. Murone. Da parte della giocatrice numero tre del New Volley Adda. si spezzaglia. E si stampa. Un bel money out. E qui il New Volley Adda chiede il time out per interrompere questa fuga. 6 a due. Il Segrate. In attesa che le squadre entrino in campo. Sempre Cassera a servizio per il Segrate. Il punteggio del primo set a questo punto è 6 a due per il Segrate. Ben difeso anche. Attacco da parte del New Volley Adda difeso da Cassera. E qui. Cassera. Da seconda linea. Attacco. Vincente. 7 a due. Muro e difesa posteriore. Un'altra volta. Bello. Ben preso da parte del New Volley Adda questo attacco. sempre Cassera da seconda linea che però sbaglia di ben mezzo metro. Lo stesso attacco di prima. Al servizio Pezzaglia per il New Volley Adda. vediamo l'attacco da parte del New Volley Adda che però non si intercetta fra la rete e la giocatrice. E' qua. Regala da punto a Segrate. e lì al servizio per il Segrate. Bel servizio. E non c'entrava niente. il recupero da parte del New Volley Adda. Attacco. E' secondo attacco da parte del Segrate. Con Facchinetti. che regala un altro punto al Segrate. 9 a 3. Sempre lì a servizio. Bello lungo ma intercettato dal Segrate. E' qua. Bellissimo. Bellissimo. Diagonale strettissima di Facchinetti. Non permette il recupero della palla al New Volley. 10 a 3. Sempre lì a servizio. Vediamo se il New Volley Adda riesce a cambiare set per cui recupera il gioco. Palletta. E si stampa. E' qua. Si incarta. Sempre Facchinetti che carica la palla sul muro. Il muro si incassa. Si apre leggermente. La palla si incassa tra le giocatrici e la rete del New Volley. 11 a 3. Il libero difende. Difende. Difende bene. E' qua. Finalmente. C'è un cambio. Zorloni non recupera la palla per il Segrate. E' appunto New Volley. A servizio Colombo per il New Volley. 4 a 11. attacco da parte del Cassera. C'è assolutamente. Lo indica anche l'allenatore del Segrate. Palla veloce nell'angolo in posto 1. 5 a 11. sempre Colombo a servizio. E' qua. La palla era fuori. E la giocatrice del Segrate la lascia scivolare via. In maniera tale da non far far punto. Fiscaletti. Attacco da parte del New Volley intercettato dal Segrate. Attacco del Segrate. Bellissimo. Sempre da parte di Facchinetti. Diagonale. Fiscaletti. bella. Facchinetti tenta il muro ma sfugge via sulla mano esterna. E la palla cade in campo. 6 a 13. Guerini al servizio. E' qua. Regala la palla. La famosa palla punto regalata al Segrate. Attenzione ragazze che queste palle perse così sono proprio regalate. Facchinetti per il Segrate. E' qua. Bravissima. Veramente brava. Cassera. Svilgola la mano sul muro. Il muro non contiene la palla. 15 a 6. Attacco. Ben difeso. Recuperato dal New Volley. Bello difeso da muro. intercettato ancora dal Segrate. Segrate. Attacco. Ed è out. 16 a 6. Sempre Facchinetti al servizio. E' qua. Regalata. Palla punto. 7 a 16. E' qua. Regalata. Palla punto. Tenisci. A servizio. Regalata. E' qua. altra volta. 17. 7. Rossi. Per il Segrate. Al servizio. Bello. 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 Spinta accompagnata bene. In maniera tale da non poter essere intercettata dal Segrate. 8 a 17. Bordonari. Primo tempo che si ferma sul muro. Secondo muro da parte del Segrate. Attacco. Attacco. Della Cassera. E' qua. Attacco. Frontale. Della Cassera. In posto 6. Non preso. Dal New Volley. Sono avanti 10 punti. Chi ha il servizio. E' qua. Minimo di distrazione da parte del Segrate. Zorloni a servizio. E' un altro punto per il Segrate. time out da parte del New Volley Adda è l'altra parte partita un po' complicata per il New Volley l'abitro che richiama sempre Zorlone a servizio per il Segrate 19 a 8 recuperate in estremis da parte del New Volley Adda è out, money out, stampa la Cassera una fucilata sul muro sempre Zorlone per il Segrate bello attacco a palletta che viene recuperato da Zorlone ecco un minimo di disattenzione posso dirlo nei confronti 21 a 8 eh vabbè 22 23 sempre Cassera stampa la palla Guerrini a servizio per il New Volley e qua Landonio che cerca di recuperare la palla ma non riesce si svirgola fra le mani sempre Guerrini bello servizio doppia doppissima più di quanto si possa immaginare in televisione è un po' difficile da vedere ma qua è stata una doppia stra doppia Guerrini che regala il 24esimo punto nonché il primo set point per il Segrate 24 a 11 Cassera a servizio per il Segrate primo set point di tanti set point attacco murato bene anche da parte del Segrate ed eccolo qua il primo set 25 a 11 25 25 a 11 direi un po' complicato per la Grazie a tutti. Eccoci qua, 25 a 11, intanto vediamo che l'arbitro sul tavolo del refertista inizia tutte le procedure per cambiare il set. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attesa vediamo che i giocatrici si scaldano. Grazie a tutti. Ecco che gli allenatori hanno chiamato le ragazze a confrontarsi, a chiacchierarsela. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco le... 25 a 11, primo set finito per vittoria del Segrate. Secondo set, Pezzaglia al servizio per il New Volley. E parte l'arbitro. Bello. Ben difeso da parte del New Volley l'attacco della Cassera. Fuori, giudicato fuori da parte dell'arbitro. Punto per il Segrate. Rosso al servizio. Rosso al servizio. 1-1. 1-1. Bellissimo questo attacco in parallelo in posto 1. Casca proprio in mezzo ai piedi della giocatrice. Guerrini. Molto bello. Zorloni per il Segrate. 3-3. E qua. Il New Volley. Va a colpire il confine tra 5 e 6. In fondo. E fa punto. Guerrini. Bello. Pulito. Pulito. Preciso. E qua. Mani out. Mura 2. Cassera al servizio per il Segrate. E questo. Svassoiata. Svassoiata. Di pezzaglia. Qui Marco avrebbe detto. Marco Nunez. Avrebbe detto una bella svassoiata. la scelta. Sempre Cassera al servizio. Bello. Questo primo tempo un po' allungato. Bello. Svassoiata. 1-3. Un po' allungato. 4-3. 3-3. 4-3. a servizio, che si prepara attacco a palletta palla che cerca di essere recuperata da parte del Segrate in qualche maniera sembrava più un gioco di racchettoni che non di mani New Volley fa punto e qua New Volley 6 a 5 per il New Volley attacco della Cassera che lasciano cadere separi recupera da parte del New Volley Fiscaletti per il Segrate bell'attacco da parte del New Volley e qua la guardano cadere praticamente 7 per il New Volley per il Segrate Fiscaletti sempre a servizio e questo è un colpo di fortuna come chiamo io colpo brasiliano 8 8 a 6 aveva recuperato il New Volley attacco attacco molto bene eccolo qua colombo colombo ha chiuso il punto per il New Volley 7 a servizio Guerrini difeso e qua l'attacco bell'attacco posso dirlo di pezzaglia leggermente in diagonale 8 8 pari 8 pari sempre Guerrini a servizio bell'attacco da parte del Segrate ma intuito da parte del New Volley fantastico Guerrini stampa la palla sulla re sul nastro la palla rimbalza e confonde le linee di difesa del Segrate che non intercetta la palla e in questo momento il New Volley è in vantaggio 9 a 8 bello bello questo attacco sempre Guerrini 10 a 8 Guerrini Guerrini cioè Guerrini e Guerrini bello muro e poi difeso da parte del Libero attacco del New Volley eccolo qua muro a 2 del New Volley stampa la palla nel campo del Segrate 11 time out da parte del New Volley sì del Segrate che cerca di interrompere questa fuga del New Volley che si sta anche rincuorando c'è un forte entusiasmo fondo campo vediamo sedute le ragazze del Viscontini parteciperanno alla gara successiva sarà Viscontini contro New Volley sempre Guerrini per il New Volley e parte il servizio ed era out ma il Libero lo prende lo stesso 12 sempre Guerrini a servizio del New Volley Adda bello 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 servizio vediamo l'attacco da parte del e qui si stampa un bel my out sul muro che regala appunto a Segrate 9-12 facchinetti a servizio facchinetti facchinetti a servizio ecco a tenisci un filino un passo avanti un passo avanti l'avrebbe presa sempre facchinetti attacco attacco palletta bellissima la parte di pezzaglia del New Volley si lascia spiazzato il Segrate 13-10 è della stessa pezzaglia che adesso va al servizio bello muro da parte della giocatrice numero 10 Colombo sempre pezzaglia servizio 14-10 15 eis è un bel bel cambio di gioco sempre pezzaglia rispetto chiaramente al primo tempo al primo set e qua regala appunto palla punto al servizio il Segrate Rossi cambio linea richiesta di cambio esce pezzaglia e entra Colombo 11-15 Rossi a servizio attacco bellissimo attacco da parte del New Volley Ada con Guerini con una R sola eh Guerini questa volta mentre al servizio adesso ci va Colombo 16-11 per il New Volley Colombo attacco da parte bello questo parallelo in posto uno indifendibile e perlomeno era difendibile se avesse avuto una posizione generalmente diversa sulle braccia di Guerini doveva difenderlo 4-Zorloni al servizio primo tempo un po' allungato doppia e qua c'è tutta la doppia da parte della palleggiatrice del New Volley del Segrate ed è il secondo fallo di second di doppia Guerini per il New Volley ed è out ed è veramente out questo 17-13 anzi 13-17 visto che va al servizio il Segrate con Cassera recuperato eccolo qua che la giocatrice numero 15 Bordonali no chiedo scusa Elia ferma la palla ed è punto per il Segrate 14-17 attacco da seconda linea del New Volley difeso l'attacco tal libero del New Volley palletta talmente forte ma talmente forte che la Colombo lo prende ma la palla esce dalla palestra incredibile ecco la palla viene riportata in campo time out da parte del New Volley tentativo di interruzione del corsa raggiungimento ricordo che sono 15-17 il primo set è stato vinto da Segrate 25-11 potrei dire una scemenza ma mi pare 25-11 no 25-11 esatto Casera a servizio per il Segrate vediamo il gioco palla era fuori e di parecchio anche 18-15 tenisci ecco una cattiva gestione della palla fa sì che è tua è tua è tua e il Segrate perde punto sempre tenisci 19-15 corta attacco del New Volley vediamo brava brava tenisci a difendere questa palla è qua diagonale strettissima da parte di Bordon non Bordon chiedo scusa è via cambio sulle linee del Segrate Guglielmino a servizio e qua la giocatrice del Segrate che praticamente nell'attaccare tocca perfettamente la rete l'arbitro se ne accorge 20-16 Bordon a servizio fuori 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 si è visto da qua che era fuori 17-20 Fiscaletti ecco ace 18-20 sempre ecco bravissima Rossi intercetta la palla la mette in campo 19 19 bella carica ma recuperata da Segrate ecco la seconda recuperata da libero a questo attacco doppia doppia non ho vista doppia è 20 pari ed è la prima doppia fischiata al New Volley ed è fuori recuperata male da parte di Guerini 21 e il Segrate va in vantaggio e in questo istante il New Volley chiede il time out pur trovandosi in difficoltà il Segrate è riuscito a recuperare praticamente tutta la partita tutti i punti necessari per ritornare in partita Fiscaletti a servizio per il Segrate ben recuperata palletta che però non porta nulla recuperata ancora da parte del Libero è qui attacco da seconda linea del New Volley e mani out l'altra volta 22 per il Segrate 22-20 cosa è successo? molto semplicemente la palla si è stampata sul nastro e il muro non l'ha toccata e la palla è uscita dal campo totale 21-22 bello servizio da parte di Guerrini che fa Is e sono 22 pari sempre Guerrini il Segrate chiama il secondo time out sempre Guerrini al servizio regala questa palla al Segrate qui non ci voleva Facchinetti attacco da parte del New Volley intercettato molto bene brava Libero che intercetta questo pallone molto lontano da lei è qua invece non ce la fa set point Facchinetti ecco qua secondo set vinto dal Segrate 2-0 so abbiamo visto le istruzioni di rotazione da parte dell'arbitro per ruotare il campo è attesa del terzo set vedremo cosa succede nel terzo set se il new volley Hadda si nel secondo set il new volley Hadda ha aumentato il livello di gioco mettendo anche in difficoltà ben due volte il Segrate ma il Segrate è riuscito a recuperare arrivano le formazioni un'altra parte Grazie a tutti. Siamo quasi pronti. Eccolo. Siamo quasi pronti. Vinto dal Segrate 25-11, secondo set vinto dal Segrate 25-22, terzo set e vediamo cosa succede. Rossi al servizio. Partite. Partite. Ecco, Ace. Sempre Rossi. Bello, quest'attacco. Pezzaglia, che va anche al servizio. Uno pari. Diagonale, che passa per la fine del campo del New Volley. Zorloni per il servizio del Segrate. Preso male, ma di recuperato il servizio. Due pari. Un po' troppo lungo. attacco del Segrate. Colombo al servizio. Colombo al servizio. 10. 10. 10. Cassera al servizio. Corriere. Eh, qua. Colpo di fortuna, brasilianissimo. Infatti, se ne rende conto anche lei di aver avuto un colpo di fortuna. 4-2. ed è un bel money out che regala un bel punto al new volley Guerini a servizio ben difeso sono distratte le ragazze del new volley ad 5-3 Elia a servizio bello servizio è questo ancora più bello Bordonali che 4-5 tenisci che regala questa palla punto la palla segrate Fiscaletti sfiora il nastro la palla è al servizio la palla si stampa sul nastro e torna indietro 7-4 attacco del new volley il segrate non riesce a gestire manda la palla fuori campo Bordonali bello bello il carico da parte del segrate il muro ed è punto per il new volley perché il segrate manda la palla fuori abbondantemente fuori sempre Bordonali che assera la ricezione ed è lunghissima 7 pari bello bello Facchinetti ed è sempre lei che va al servizio una palla recuperata in estremis dal segrate con Rossi che spiazza completamente la difesa del new volley e fa punto il segrate 9-7 lungo 9-8 Guerrini a servizio giocatrici numero 11 bello bel servizio attacco da seconda linea da parte del segrate con Facchinetti che però stampa la palla sulla rete 9 pari bello bello era fuori la giocatrice numero 14 sempre Facchinetti prende la palla la stampa sul soffitto era totalmente fuori se non l'avesse toccata malestinto sempre Guerrini sempre Guerrini rossi a servizio rossi a servizio corta corta è qua ci stava tutto quello che ha chiamato l'arbitro 4 tocchi sempre rossi a servizio Murone a due che ferma rallenta la palla è qua Cassera tira una fucilata che però va a finire totalmente fuori campo 11 pari pezzaglia preso dalla giocatrice numero 11 del New Volley da questa fucilata del Cassera che però si stampa a metà tra le braccia e la faccia e non riesce a contenere il tiro va a finire fuori Zorloni che regala la palla al New Volley punto punto questo terzo set Colombo bello veramente bello sottacco da parte di Elia veramente bello Cassera a servizio per il Segrate bello questo muro su Facchinetti palla va fuori 13 pari è una veramente un terzo set punto a punto Guerini e qui Cassera tenta un attacco da seconda linea si stampa sul nastro e torna indietro la palla ed è vantaggio per il New Volley fuori fuori 14 pari Elia per il Segrate a servizio a servizio qua il New Volley regala la palla il punto al Segrate per un'invasione di rete richiamato richiamato dall'allenatore del Segrate ma l'arbitro l'aveva già dato praticamente bella la difesa da parte del New Volley di questo attacco ed ecco che da seconda linea attacco del New Volley 15 pari 15 pari finisci ecco la palla si incassa tra la giocatrice e il Pezzaglia e la rete il punto per il Segrate 16-15 Fiscaletti e questo è un colpo brasiliano 17 ben difeso ecco Facchinetti conclude con il suo diciottesimo punto siamo al terzo set di Sì potrebbe essere il c'è il decrema perché sarebbe venuta la mano ok sì certo grazie ciao grazie 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 a servizio Segrate bello questo Ace Fiscaletti recuperata col piede brava ma qui il Segrate non perdona Rossi 20 a 15 bello ben recuperato da parte del Segrate Aquilone da parte del Segrate 16 a 20 attacco da parte del Segrate che però non va a buon fine ed è out assolutamente 21 a 16 cambio sulle linee del Segrate Guglielmino a servizio ecco Ace 22 time out richiesto dal New Volleyada ed è il secondo time out vi ricordo che il primo set è finito 25 a 11 per il Segrate il 25 a 22 sempre per il Segrate 22 a 16 siamo al terzo set sempre per il Segrate palla palla al Segrate Guglielmino al servizio bello l'attacco del Cassera Evro viene intercettato ed è punto per il New Volleyada Guerrini giocatrici numero 11 bello 1 a 2 intercetta la palla ma cade in campo del Segrate quindi diciottesimo punto per il New Volley ecco la palla la palla cade praticamente di fianco all'allenatore l'allenatore non fa in tempo ad allontanarsi per il recupero e nello stesso momento chiede anche il time out all'allenatore del Segrate boffantini boffantini 19 a 22 sempre Guerrini a servizio per il New Volley bello questo attacco da parte del Segrate rossi a servizio per il Segrate 23 19 23 20 pezzaglia per il New Volley qua la palla del Segrate rischia di guardarsi 1 a 2 4.15 del Segrate Elia Zorloni che la buttano fuori time out il secondo time out da parte del Segrate che tenta di interrompere il Segrate il Segrate servizio da parte del New Volley brava recuperato ma sfugge ed è il match point per il Segrate eccolo qua cambio sulle linee del New Volley al servizio Zorloni per il Segrate siamo al match point match point del 3 a 0 bello il primo match point viene cancellato questo attacco del New Volley che va a buon fine al confine tra posto 1 e posto 6 la palla cade non viene intercettata dal Segrate Colombo per il New Volley secondo match point per il Segrate Cassera con la palletta scavalca il muro e passa molto d'astuzza quest'ultimo tocco 25 a 22 complimenti a entrambe le squadre tra un'oretta ci ricolleghiamo per vedere lo scontro tra l'incontro scontro tra il Viscontini Under 18 e il New Volley Adda